ciao a tutti buon pomeriggio facevo una considerazione preliminare adesso stavo ragionando mi lascio un po perplessa nel senso che grandi novità magari sotto alcuni profili non si vedono e in questi principi di carattere generale lasciano aperti degli scenari che ancora non possiamo dire che concretizzazione avranno lo vedremo con i decreti attuativi sulla formazione io sono un po perplessa perché si parla di aumento delle ore di formazione e di aggiornamento poi di interessante il tema degli incentivi fiscali le misure che effettivamente potrebbero incentivare la diffusione della mediazione o comunque l'interesse degli avvocati a promuovere la mediazione rimane ancora tutto da definire il tema della riforma delle spese di avvio e dell'indenità di mediazione una mi è venuta la ministra in cassazione si è detto si si aumenterà però si è anche detto non conta il numero di ore però siccome la concezione sarebbe proprio sul fatto che il primo incontro è un primo incontro di mediazione come era una volta quindi questo farebbe scattare l'idea si facciamolo pure scaglionato ma già con una retribuzione non siamo ancora riusciti a capire chi scriverà le norme e questo è il problema l'avvocato non potrà più dire no signora lasciamo perdere perché sennò dobbiamo pagare dovrebbe scattare il fenomeno contrario già che paghiamo proviamoci e anche perché la ministra aveva appena detto che non era assolutamente convinta dell'obbligatorietà ma che la commissione l'aveva convinta del fatto che fosse una cosa necessaria il rischio che bisognerà evitare è che il primo incontro effettivo non sia preso come un morbi e fuggi per cui alla fine del primo incontro per non andare oltre si brucia la mediazione. Il fatto che a me è lasciato un po' perplesta dire la verità è la possibilità di dare delega solo in presenza di giustificati motivi come una forzatura perché voglio dire se una parte deve autodeterminarsi può anche scegliere di delegare molto interessante a mio avviso invece è il coinvolgimento dei magistrati nella formazione in mediazione cioè questa è una novità che potrebbe incentivare molto la mediazione delegata. Io sono così programmaticamente ostile alla mediazione delegata. Perché? Perché il giudice dovrebbe al limite dire oh ragazzi siete andati a mediare avete provato ma morta lì cioè non è il suo lavoro il suo lavoro è fare sentenze non liberarsi delle cause non spingere le parti a transare non lo so mi sembra che qui il mondo si è rovesciato. Carlo quando gli avvocati sono stati indirizzati da un giudice hanno una maggiore diciamo uno sforzo uno sforzo in più. E questo è bene? Allora abbiamo una visione magari realistica ma tremendamente sconsolante del rapporto avvocato cliente. Ehm allora interessante è anche l'estensione delle materie obbligatorie no? Anche se sì è stato previsto il franchising, i contratti d'opera, il consorzio di rete, somministrazioni, le società di persone e non le società di capitali. Era stato richiesto l'estensione a tutte le controverse del tribunale delle imprese e si è preso come un paio poco più che di quello che era della commissione Alpa che era veramente poco insomma era questo ampliamento però almeno è un ampliamento. Va bene poi ci sono alcune previsioni che vogliono garantire la qualità dei responsabili degli organismi di mediazione. Io temo sempre quando ci mettono mano a queste cose perché mi sento molto più rassicurato quando si esce dal radar e nessuno se ne occupa. Per fortuna che sull'arbitrato non hanno fatto danni ma forse li faranno chi lo sa. Ci sono alcuni passaggi che lasciano un po' a così a temere come dici tu perché anche quell'idea che che si dice per quanto riguarda la formazione che i soggetti che non hanno lauree in discipline giuridiche e quindi possono essere abilitati sono se hanno fatto approfondimenti giuridici. Tutti i fenomeni di mediazione annessi diciamo alle tribunali sono a costo politico se non gratuito. Finora tutti questi prezzi politici sono stati infatti che il mediatore non fosse pagato. Tutti gli altri bene o male se la sfangavano. Gli avvocati hanno tenuto le tariffe apposta per la mediazione. Quello che è rimasto col cerino in mano è il mediatore. E per gli organismi no? E gli organismi ovviamente. Gli organismi fanno una scelta stato di farlo solo amministrata solo attraverso mediatori scritti e tutto il resto un minimo te ne devi far carico eh. Ah sì ma i soldi devono arrivare dallo stato. Hai capito? Oppure.